Diamo il buongiorno a Luca Ariatti, agente di Leo Ostigato. Ciao Luca, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Luca, parlavamo di testa e dobbiamo dire che Leo è uno che ce la mette sempre e non soltanto in maniera fattiva. Ieri splendido il suo gol, ma se dovessi descrivere quelle che sono le sue caratteristiche c'è tanto dinamismo accompagnato ad un'ottima lettura di quelle che sono le situazioni di gioco. Anche in questi primi mesi napoletani, che però vorremmo chiedere a te di raccontarci. Le caratteristiche di Ostigato sono quelle che è stata apprezzando, il fatto di avere sempre un grande approccio alla partita, indipendentemente dal fatto di giocare magari non sempre, come è successo in questa prima fase. vive la prestazione come una sfida personale, come un'occasione ogni partita per dimostrare il suo lavoro, ha una grandissima ambizione e quando un calciatore nel calcio moderno ha questa ambizione, questa professionalità e anche questa abitudine alle partite importanti, alle sfide quelle più prestigiose, per se volentieri poi si tramutti in prestazioni di ottimo livello. Leo è contento, Napoli è contento, sentiamo io e la gente, Jim Solbaken, la fiducia di tutto l'ambiente, di tutti i tifosi, quindi questo è molto importante. C'è un'immagine che mi è piaciuta tantissimo di questi primi mesi, hai ragione, magari non ha ricevuto grande minutaggio, però quando gli è stato annullato quel gol? Mi hai rubato la domanda. Scusami Ale, vuoi continuare tu? No, volevo semplicemente sapere se dopo quel gol, come ha commentato la presa. Io vedo quella grafica per me, quel pulso, quella a spalla, quello che era in fuori gioco, se ti avessi detto cosa ti ha detto di quell'episodio, di quel gol all'Oltraffa. No, ci abbiamo scherzato insieme perché sicuramente è stata una situazione anomala e anche da un certo punto di vista ingiusto per il bello del calcio perché il gol poi è il motivo per cui un tifoso va a vedere la partita, per cui anche i giocatori vanno in campo e quindi privarsi di un gol del genere per veramente una questione di centimetri quasi impercettibili è un dispiacere. Quando per questo avviene a Dunfield Road è ancora più pesante come emozione che ti viene tolta. però lui è un giocatore, come ho detto, una grande mentalità e quindi guarda sempre in avanti il fatto che poi il nazionale si sia già riscattato di riserva con un altro gol fa capire che per lui ogni palo inattiva è una grande occasione per lasciare il segno nella partita. Esatto, notavo proprio questo. Cioè è evidente come sia uno di quei difensori che si ispirano un po' alla Sergio Ramos che ci tengono a diventare anche magari dei difensori con la Dora. Vai a vedere i numeri di Sergio Ramos, è uno di quelli che ha segnato tantissimo in carriera. Ecco, ce lo ricordiamo non solo per il suo grande apporto in fase difensiva ma anche per la sua vena realizzativa. Possiamo dire che Leo ha un po' questo progetto, questo sogno, cioè di diventare difensore Goliador? Sicuramente il fatto di essere un difensore che si rende pericoloso sulle palle inattive è una dote, è una dote innata perché non è solamente una questione di centimetri o di struttura fisica ma è una questione proprio di tempismo, di letture, di scaltrezza, di fisicità. È un insieme di tanti componenti. Anche Sergio Ramos, che come giustamente hai detto ha segnato tantissimo, non è un colosso fisicamente in termini di centimetri, però ha sempre avuto grande tempo, sa dove va la palla. Leo ha questa dote, ha questa dote perché si sa muovere bene e poi obiettivamente nel Napoli le palle inattive vengono sempre calciate molto bene, quindi è molto allettante per i difensori poter andare a saltare sulle palle da fermo. Luca, penso che, come dire, anche per quella che è la tua conoscenza del calcio, in questi mesi forse anche tu possa avere avuto buon gioco nel limare quella che nelle prime uscite anche col Genoa era una grande, grandissima irruenza. Nelle uscite col Napoli quest'anno, devo dire la verità, mi è sembrato un miglioramento evidente. È riuscito anche, tra virgolette, un po' a contenere questa sua grande foca o sbaglio? Allora, abbiamo parlato di questa cosa proprio insieme quando è venuto a giocare a Bergamo. Con l'Atalanta sono stato trovato e gli ho chiesto un po' le differenze tra il Genova e il Napoli. Il discorso del Napoli è che è più facile perché in fase di possesso palla tutti i giocatori del Napoli vogliono la palla nei piedi, nessuno si nasconde, la vogliono anche pressati e quindi per un difensore centrale questo ti facilita, ti devi assumere anche meno responsabilità in palleggio perché ci sono giocatori che vogliono e pretendono il pallone e quindi ci sono meno responsabilità rispetto a Genova dove era una stagione più difficile, una rincorsa per salvarsi, c'era pressione di un certo tipo. Sicuramente questo agevola e eleva anche un po' di responsabilità ai difensori centrali. Guardando al futuro possiamo dire che lui ambisce a diventare una colonna di questo Napoli, quest'estate c'è stata una trattativa anche abbastanza lunga col Brighton che alla fine però è riuscito a portare Eleo in azzurro, visto che comunque ha un lungo impegno col Napoli possiamo dire che è proprio quello il suo obiettivo diventare una colonna di questo Napoli. Io penso che tutto sia partito quest'estate, Leo aveva veramente tantissime richieste, io parlo soprattutto della Serie A, ma Leo ha tenuto sempre la prima scelta del Napoli, ha aspettato il Napoli con grande pazienza anche quando comunque c'erano pressioni o c'erano degli out-out, insomma lui ha dimostrato davvero grande carattere anche in questo, sicuramente rassicurato dal Napoli e dagli ottimi rapporti che c'erano tra le parti, però non è stata una trattativa facile, come hai detto. Credo che adesso il tempo è sufficiente, avendo un contratto lungo per potersi inserire sempre meglio, dimostrare il suo valore e nell'arco di una stagione così piena, così prestigiosa come quella del Napoli e le future, io credo che il suo posizionamento aumenterà sempre, sapendo comunque che siamo nell'elite del calcio e quindi se la sta anche giocando con i migliori difensori su livello europeo, questo ne è consapevole. Tutto chiaro. Ale, se non ci sono altre domande, ringraziamo... No, volevo solo un commento a quello che diceva prima. Io l'anno scorso ho visto da appassionato di calcio qualche partita con il Genoa e il tempismo e il sapere dove va la palla. Io non ricordo chi era l'avversario, sinceramente, ma il Genoa stava subendo letteralmente un assedio e stava difendendo un pareggio. Non ricordo nel giro di cinque minuti quante palle in aria arrivarono alte, io non rimasi esterefatto, ma veramente esterefatto, di come le riuscì a prendere tutte o stigate. Ma tutte, tutte, tutte. Quando poi ho saputo che effettivamente c'era l'interesse del Napoli e che è arrivato al Napoli, ero convinto veramente, e sono contentissimo anche per il ragazzo, insomma, perché si vede che è uno a cui piace lavorare, lottare, dare tutto per la maglia. Quindi no, semplicemente complimenti e in bocca al lupo veramente per il suo futuro, che mi auguro possa essere il più rosso possibile in azzurro. Grazie mille, grazie mille delle belle parole. Ciao Luca, grazie davvero e a presto di sentirci.